e ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video e allora oggi vi mostro delle 32 700 che a differenza di quelle che vi ho mostrato la scorsa volta ragazzi ne parlano bene hanno fatto oltre 600 ordini 690 ordini e quasi tutti soddisfatti ci sono stati tanti che li hanno anche restati hanno appunto potuto vedere che nell'effettivo la capacità siamo lì e infatti ragazzi non stanno dicendo 10.000 non stanno dicendo 12.000 non stanno dicendo 9.000 stanno dicendo 6.500 7.000 e già 6.500 7.000 è accettabile per delle 32 700 anche perché è un brand un brand noto per chi è nel settore batteri lì di toccala di toccala non fa solo queste ma fa anche delle 18 650 21 700 diciamo che è uno dei brand cinesi che oggi si sta facendo conoscere per la qualità dei suoi prodotti andiamo a vedere la scheda tecnica sono sempre lì efe più 4 capacità nominale può oscillare da 7 a 6 5 tensione nominale circa 3.7 comunque dovrebbe essere 3.65 però loro sono precisi e vanno a mettere 3.7 eccolo qui 3.65 e 3 ampere la corrente di di carica e 30 ampere come corrente di scarica continua che è una eccellente corrente ragazzi poi massima corrente 6 c quando scarico al massimo 2.5 e ci stiamo anche qui come data sheet ragazzi queste sono le celle a differenza di quelle di più che abbiamo visto lo scorso video non hanno le piti laterali ma hanno i normali pad saldanti con una saldatrice appunti positivo e qui con la cartina e negativo e dal lato dietro e forniti in lotti da 3 4 5 ma la cosa importante ragazzi sono i feedback guarda questi tutti clienti e tutti i clienti soddisfatti c'è poi chi fa cazzare prendi questo che ha saldati a stagno ma non è lui il solo che li ha saldati appunto a stagno questo li ha testati eccoli qua con un tester capacità da 6.300 massima 6.700 può andare bene perché no questo invece si è fatto un bel paccone guarda che bellezza e 1 2 3 4 5 6 7 8 s 6 p paccone enorme ragazzi altre 5 altre 6 anche questo in fase di testa di voltaggio 3,29 questo no questo ha fatto un buon lavoro saldati appunti mi piace un 4 s queste colo qui ragazzi questo si sta preparando per saldare così queste celle ma che cosa che cosa mi rappresenta cioè ha preso questo filo lo ha spellato filo ramato spellato e si sta diciamo mettendo i vari contatti in posizione così da non confondersi però ragazzi questa è una saldatura stagno le saldature stagno non vanno bene su queste celle non fare questo errore anche tu perché guarda è una una schifezza e poi ancora di più guarda dove lo deve utilizzare nella moto giocattolo del figlio o della figlia che è una cosa pericolosissima cioè io non lo farei mai cioè un filo di questi se va a toccare dove non deve toccare dopo che è stato saldato prende fuoco prende fuoco e per quanto sono messe vicine piano piano riscaldano tutte e prendono fuoco tutte a quel punto cosa fai se il bimbo è da solo che gioca che fai non stai rischiando di fargli male certo che stai rischiando anche guarda come si presenta questo e guarda come si presenta questo cioè dico c'è una grandissima differenza pulizia ordine anche sicurezza delle connessioni non c'è paragone ragazzi perciò mi raccomando chi è iscritto al mio corso già lo sa io odio le saldature a stagno approfitto di questa parentesi per invitarti al corso batteri maker è l'unico corso nazionale forse anche internazionale sulle batterie litio lì andremo a parlare delle customizzazioni riparazione ricellaggio dei vecchie batterie o la creazione di nuove ovviamente e oggi col grazie anche la micromobilità bici elettriche monopattini skateboard e overboard scooter elettrici elettro utensili le batterie litio stanno registrando numeri da capogiro e se ne stanno vendendo di tutti i colori di tutte le salse di tutte le potenze ragazzi però il problema di fondo qual è in italia ci sono pochi tecnici professionisti che possano riparare o ricreare queste batterie ora io fino a qualche annetto fa lo facevo io con grandissime soddisfazioni mie e dei clienti però ho constatato che nell'effettivo è un settore ancora vergine e ho deciso di non farlo più come lavoro principale anche perché mi occupava tutto il tempo invece ragazzi da un paio di mesi mi sono dedicato a corsi dedicati a tutti gli interessati battery maker cioè chi vuole andare a avviare una sua posizione lavorativa oggi molto importante il lavoro è molto importante anche il settore ragazzi questo è un settore che ti fa fare soldi su soldi su soldi su soldi e ti dico anche perché il 90 per cento di chi compra un monopattino elettrico è scontento dell'autonomia è scontento della potenza idem la bici tutto alla fine sono scontenti perché vorrebbero qualcosa in più sanno che grazie anche a fox se navigano in rete le batterie si possono anche personalizzare si possono ricreare nuove per avere più autonomia ora però fox non può dare un servizio a tutti perché già io così nonostante non faccia oggi batterie ricevo dalla media dalle 5 alle 10 richieste al giorno di offerte preventivo consigli tecnici perciò io per evitare di sovraccaricarmi ho scelto di crearmi una squadra di appassionati che poi possono diventare tecnici professionisti e che tramite i miei corsi studino e facciano tantissima pratica e possono andare a coprire tutta italia almeno tutta italia il secondo step che andrò a fare presentare il corso in varie lingue perciò prendere tutto il mondo perché ripeto è l'unico corso oggi sulla rete sulle batterie litio poi il secondo corso è power wall maker il corso dedicato alla costruzione dei gruppi di accumulo power wall nello specifico che cosa sono sono delle grandi batterie connesse ad impianti fotovoltaici o energia eolica per esempio che ti accumulano tutta questa energia prodotta green energia alternative e la usi quando ti serve anche per questo il corso è già attivo sotto in descrizione trovi tutte le info niente ragazzi per questo video è tutto se ti è piaciuto un like mi raccomando commenta i commenti mi servono i like mi servono anche per sbloccare l'algoritmo di youtube ciao ragazzi al prossimo video